L'avvio dell'anno giudiziario della Corte d'Appello dell'Aquila si è aperto con il silenzio di ordinanza rivolto alla commemorazione delle vittime dell'hotel El Rigopiano e delle sei vittime decedute per l'incidente dell'elicottero del 118 a Campo Felice. Sono certa di esprimere i sentimenti di tutti dicendo che una profonda solidarietà umana si unisce oggi ai sopravvissuti dell'hotel El Rigopiano, ai bambini tornati alla luce come una seconda nascita, sotto gli occhi dell'Italia intera, ai congiunti di coloro che non è stato possibile salvare. Lo ha detto la Presidente della Corte d'Appello dell'Aquila, Fabrizia Franca Bandera, in occasione dell'inaugurazione dell'anno. Sono le madri, i padri, i figli, le compagni e i compagni che in un clima di angoscia collettiva che ha pochi precedenti hanno dovuto prendere atto giorno dopo giorno della perdita terribile di cui devono farsi carico. A prendere la parola il Vice Presidente del CSM Giovanni Legnini che ha spiegato quello appena concluso sia stato l'anno dell'approvazione del nuovo regolamento interno del CSM perseguendo i valori dell'efficienza, della collegialità e della trasparenza dei procedimenti del Consiglio. Gli uffici giudiziari abruzzesi negli anni successivi al disastroso sisma del 2009 sono stati investiti da diverse problematiche che non hanno consentito il pieno di spiegarsi delle capacità di produrre prestazioni più elevate, seppur in un quadro complessivamente positivo. Un'impellente necessità di conseguire l'obiettivo storico di un sistema giudiziario eco ed efficiente impone a tutti noi di produrre uno sforzo straordinario proseguendo lungo la strada ormai da tempo intrapresa. All'Aquila e in Abruzzo lo sforzo è moltiplicato per tutte le ragioni che ho qui provato a rappresentare ecco perché gli auguri di buon lavoro che voglio formularvi non sono affatto rituali ma pieni di riconoscenza accompagnata a un forte incitamento a fare tutto quanto e nelle nostre possibilità.